Consigliere Pepe, oggi un'interrogazione sulla casa di riposo di Sant'Omero. Purtroppo l'assessore Fioretti era assente per ragioni familiare, ma ci attendevamo una risposta soprattutto dal governo regionale, a cominciare dal presidente Marsilio che era presente e conosce benissimo la tematica, poiché qualche mese fa ha tenuto proprio un'assemblea, un comizio davanti alla casa di riposo di Sant'Omero. Lì ci sono una serie di criticità strutturali, soprattutto la casa di riposo attualmente è ospitata in una struttura temporanea messa a disposizione dal Comune, da mesi il Comune, l'Asp, attendono una risposta, ma soprattutto attendono una risposta gli ospiti, gli operatori e le famiglie coinvolte.